In questo video... Urgo! Ciao amici! Questo è un primo motovlog di prova. È molto breve, in quanto la metà del tragitto di andata è stato registrato foto per foto. La qualità lascia un po' desiderare della controidota e le inquadrature sono state messe un po' frettolosamente. Ma ci riproveremo la prossima volta. Vorrei saldare il pubblico. Vabbè, quanto c'è altro ritorno. L'importante è per le batterie, invece le abbiamo. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Orto! 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 Come ho visto un merco? Scusa. Non so cosa sia successo... Eh Vez... Sì... È Vez il casco... Non ci credo Vez... È salvo, sì... Non scendere destra... Non scendere destra... Non scendere destra... Non scendere destra... Non scendere... La nuova... Qui doveva esserci un B-roll... Street Triple S... No scendere... Europopi... Non scendere... Donc... Layla... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Yeah, that's me. 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 Yeah. 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 super loud. Yeah. 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 no 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 Sì! Questo è un video in questo video. Grazie a tutti. 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 Luca e a tutti. Grazie a tutti.